Borgio Verezzi in approvazione, un passaggio verso il PUC con alcune osservazioni, oltre 60, però le critiche principali che vengono mosse quali sono? Beh, inquadriamo il PUC. Il PUC è importante, è partito tre anni e mezzo fa. Abbiamo fatto almeno 12 incontri pubblici, 60 incontri con persone specifiche e tutti i martedì per tre anni il tecnico è stato disponibile. Di colpo però diciamo, oddio cosa succede, e abbiamo circa 66 osservazioni, spesse fatte da più persone della stessa famiglia, che lamentano così alcune problematiche e io credo che il PUC e queste osservazioni sono utilissime per migliorare ancora. Noi abbiamo un'idea molto chiara e precisa. Il PUC serve a migliorare il paese. Dove? Borgio Verezzi non ha la passeggiata a mare, vogliamo fare la passeggiata a mare col collegamento da pietra a finale. Borgio Verezzi non ha una piazza centrale, vogliamo fare una piazza centrale, come tutti i paesi hanno. Borgio Verezzi deve migliorare i collegamenti con Verezzi, vogliamo sistemare e migliorare la qualità di accesso a Verezzi. Verezzi non ha una strada dignitosa per portare i nostri cari al cimitero quando mancano, vogliamo migliorare quella parte. Borgio Verezzi non ha un'area verde ed educazione ambientale, vogliamo sistemare questo. Per fare tutto questo ovviamente serve una idea forte e le risorse adeguate. Il PUC prevede tutto questo. Sul come ci possiamo sempre confrontare, ma gli obiettivi sono chiari, sono obiettivi mancati da 50 anni. Se andiamo poi a contare i metri quadri, nella più esagerata ipotesi parliamo di circa 7500 metri quadri. Io credo che sia una cifra che permette di generare tra borge finale, dove ci sarà già l'insediamento da Cava Ghigliazza, un importante intervento edilizio. Ci permetterà di avere 2 milioni e 2 di euro per fare la passeggiata a mare e il resto parliamo di 1000-1200 metri quadri in tutto. Quindi non c'è tutta questa speculazione edilizia come si vuole far credere o comunque come si critica? Io non credo sia speculazione. Oltretutto, se in tre anni nessuno ha fatto queste osservazioni e arrivano adesso, io credo sia stata più una cosa strumentale a fini elettorali. E siamo ancora in campagna elettorale. Ma ci sta. Si parlava di Cava Ghigliazza. Qual è il progetto che si può pensare e immaginare su questo? Cava Ghigliazza sono di finale dove sarà fatto, credo, un importante e qualificato intervento edilizio. Noi parliamo tra Borgio e Finale di fare 5200 metri quadri, quindi 4 palazzine più servizi e attività commerciali a supporto, in cambio di questi 2 milioni e 200 mila euro di oneri per fare tutta la passeggiata a mare.